Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video. Oggi vi voglio mostrare una borsa realizzata da me. Prima di iniziare però, se vi fa piacere, vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale per supportarmi, lasciarmi qualche like e attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Iniziamo subito! Sono portata avanti e ho già infilato le perline che sono riuscita a reperire. Questa volta ho utilizzato una lenza e ho già attaccato i due, diciamo, gancetti da attaccare a questa parte che ho acquistato sempre dai cinesi. li attaccherò qui e vi faccio vedere come costruirò questa parte qua e la personalizzerò. Questa borsa la sto facendo per mia figlia. Adesso vi lascio alle immagini, registrerò in un secondo momento la voce perché dovrò poi cercare di ridurre al massimo il video. Niente, vi lascio alle immagini. Allora, io ho utilizzato un pantalone da ginnastica vecchio di mia figlia e ho tagliato la parte bassa della gamba per non avere una svasatura, una differenza troppo grande e all'incirca ho tagliato un 18x20, un qualcosa, insomma, vicino a questa misura. Ovviamente noi abbiamo voluto fare una borsettina a porta cellulare e considerando che mia figlia ha l'iPhone abbiamo preso la misura e l'abbiamo fatta proprio giusta. Niente, adesso sto vedendo, ho sovrapposto due parti di gamba per fare una borsettina, visto che non c'è la fodera, una borsettina un po' più robusta. Quindi ho infilato una gamba dentro l'altra e questa tuta aveva delle parti rinforzate nella parte anteriore quindi ho voluto far combaciare una parte rinforzata da un lato e una parte dall'altro. Adesso la sto girando al contrario per cucirla in maniera tale che una volta che l'ho cucita e ho terminato la posso girare. Ovviamente io ho fatto il passaggio, ce l'ho prima cucita tutta e poi sono andata a effettuare un ricamo che poi vi faccio vedere più avanti. Per evitare di avere tutti i fili scoperti vi consiglio di chiuderla da una parte ma di lasciare l'accesso libero al telo di sotto, diciamo, per poter nascondere tutti i fili che noi utilizzeremo dopo per fare questo ricamo particolare, diciamo. Allora, premetto, io non so cucire. È un tutorial dove non sto insegnando a cucire perché io mi arrangio ma non sono sarta. Semplicemente a livello estetico uscirà senz'altro un lavoro pulito ma diciamo all'esterno, all'interno, chi cuce ovviamente non vede un lavoro pulito fatto da una persona competente. Niente, io adesso cerco di velocizzare un attimino, ho individuato comunque il filo dello stesso grigio di questo, diciamo, tessuto di tuta. Vado a bloccare i due strati con degli spilli per far sì che non si sposti tutto in maniera tale da procedere poi per cucire. Questo è il filo che ho preso dal kit che avevo acquistato alla Lidl che mi è comodissimo perché ha tantissime tonalità di grigio e di vari colori. Sto utilizzando un ago molto molto grosso per due motivi. Il primo è che non vedo niente. È difficile per me infilare poi il filo. In questa maniera faccio un lavoro più veloce e senza perdere tempo. Vado, procedo nel rifinire la base. Come materiale noi abbiamo scelto questo perché il pantalone sarebbe stato da buttare e quindi un modo anche di reciclare e di non sprecare. Altrimenti avevamo pensato anche di farlo con un maglione, diciamo, vecchio però sarebbe stata una borsettina prettamente invernale. Invece in felpa e tra l'altro grigia, secondo noi, si presta di più. Ho provato la parte che devo poi cucire per vedere un attimino l'apertura. Quindi la base è quella della gamba diciamo più stretta. La parte alta sto effettuando delle piccole pants. Pants che non chiudo del tutto perché poi mi serve un pelino di apertura diciamo per poter inserire il telefonino all'interno. Quindi procedo in questa maniera cucendo queste piccole pants. E niente, allora diciamo la maggior parte del tempo che ho perso per fare questa borsettina diciamo ce l'ho messo per fare il ricamo che abbiamo voluto effettuare io e mia figlia. Altrimenti è una cosa veramente, veramente veloce. Premetto che non ho mai fatto delle borsettine, quindi questa è la mia prima e presumo anche l'ultima perché a me piacciono le cose fatte e finite subito e l'ho fatta in diciamo in due tempi, mattina e pomeriggio. Niente, procedo nel cucire dopo aver fatto le mie pants e questa diciamo è la mia sacca finita. L'ho girata al contrario in maniera tale da nascondere le cuciture. Niente, ho comprato dai cinesi questo, diciamo legnetto, questi due cerchi che mi servono per effettuare il mio ricamo. Una parte la metto all'interno. Vi ripeto, io l'ho inserita nello strato interno ma per nascondere tutto conviene metterla solo nel primo strato e procedere terminando dopo il ricamo. Ho misurato ed è tutto perfetto. Adesso io prendo un pennarello nero per fare le mie sagome perché io vorrei fare due teste, una mia e una di mia figlia ovviamente viste da dietro una appunto con il filo arancione per ricordare il colore dei miei capelli e l'altra invece col filo marrone per ricordare il colore dei capelli di mia figlia. Niente, una volta aver preparato diciamo tutto vado a prendere il pennarello e mi faccio all'incirca due sagome che poi vedo come dimensioni e ho leggermente ingrandito. quindi procedo a fare un disegno quasi come un cerchio di una sagoma diciamo tonda della nuca, quella all'inizio mia. Quindi procedo in questa maniera, dopo vedo se riesco in qualche modo a farvi vedere magari in un disegno, in un pezzo di carta, una piccola immagine per farvi vedere come effettuare questo cerchio. Il consiglio che vi posso dare è di utilizzare un filo abbastanza grosso. Più è grosso, più è veloce il lavoro e molto più belli sono i capelli artificiali che poi noi andremo a ricreare in questo ricamo. Purtroppo dell'arancione non sono riuscita a trovare un filo molto grosso questo è una bozza diciamo della testa e poi ho applicato i capelli. Li ho bloccati con il filo marrone e adesso vado a effettuare una treccia singola che bloccherò con un altro fiocchettino fatto sempre con questo filo marrone. Vi faccio vedere subito il lavoro già finito in maniera tale, intanto la treccia ormai la sappiamo fare tutti poi questa è la classica e quindi ho terminato con la sagoma della mia testa. Adesso vado a fare la stessa cosa per quella di mia figlia. il cerchio che viene riempito all'inizio serve per far vedere che sotto ci sono i capelli una volta che è andata a effettuare la treccia altrimenti si vede che non c'è testa sotto. È un qualcosa che io mi sono inventata quindi ripeto so che non è perfetta però io e mia figlia siamo molto complici e quindi raffigura un po' la nostra, tra virgolette, anche amicizia. Ovviamente non è importante che il cerchio che si va a riempire sia perfetto ma deve essere bello fitto in maniera tale che una volta che voi adesso sto incominciando a fare i capelli mentre la parte di sotto vedete che è quasi, insomma, un ovale. Dopo lo allungherò leggermente perché poi man mano che voi andate avanti vi rendete conto dove vi servono più capelli quindi lo potete fare anche in più volte. Ovviamente siccome questa, come vi ho detto, è la prima diciamo sono dei tentativi se la dovessi rifare ci impiegherei senz'altro meno tempo e andrei più sicura sulle misure e su tutto. Io all'incirca prendo una misura poi li accorcerò pari una volta che ho raggiunto un determinato numero di capelli a contrasto blocherò con il filo arancione quindi la testa di mia figlia con i capelli castani e i fiocchettini arancioni la mia testa invece arancione con i fiocchettini marroni sulla base grigia la vedo molto bene anche su basi panna insomma, uno poi può prendere spunto da questa mia idea e cercare di realizzare anche una borsettina semplice non per forza con questi due particolari o magari ricamando anche il nome o comprando degli svaroschi termici e scrivere il nome una volta terminato tolgo i due dischetti in legno e vado ad attaccare la mia chiusura se andate nei negozi cinesi ne trovate tantissime con forma ovale con forma rettangolare più piccole più grandi quindi potete scegliere ciò che risponde di più diciamo al vostro gusto in questa apertura ci sono dei fori dove voi potete entrare con l'ago e quindi mettere all'interno la parte terminale della borsettina che verrà poi tutta nascosta quindi insomma è veramente veramente semplice alla fine del video vi metterò i costi di ogni singolo materiale e vedrete che davvero con pochissimo potete realizzare una vostra borsa personalizzata adesso vi lascio alle immagini finali questa è la borsa che ho realizzato la sta indossando mia figlia e all'interno ci sta il telefonino lei la utilizzerà per quando andrà a camminare per quando magari vuole avere il cellulare a portata di mano ha tantissimi colori quindi si abbina un po' a tutto io vi lascio ora il mio outfit a presto a presto e rieccomi qua niente io vi mostro in velocità che accessori indosso oggi ho sempre va bene i miei occhiali quelli diciamo da lettura che io tengo su fissi mentre registro il video perché altrimenti non vedrei qui ho il mio solito anello di dodo con il fermanello ce lo uso come fermanello questo di pandora e ho poi su a parte il cordino uno dei 50 i bracciali che sto mettendo ultimamente o meglio quello con le piastrine di gucci quello con la medaglietta di gucci e poi quello dei bamboli che appunto raffigurano la mia famiglia o poi le fedi l'apple watch da 38 e i miei soliti bracciali quelli che mi vedete su fissi l'ultimo e questo con la scritta michela in acciaio niente il video termina qua spero come sempre di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo come sempre domani con un altro mio video ciao a tutte